Tragedia sul lavoro in Irpinia. Un uomo di 38 anni ha perso la vita in contrada a Torre Amando ad Ariano Irpino per un incidente su un cantiere. Sembrerebbe che il decesso è stato causato da una trave di acciaio che avrebbe schiacciato la vittima. Sul posto immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La tragedia è in tarda mattinata nel cantiere del viadotto Manno dove si stavano effettuando dei lavori di manutenzione. Per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare. Il 38enne è morto sul colpo, travolto molto probabilmente dalla trave che con altri colleghi stava scaricando da un tir. Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sono stati i caschi russi a liberare il corpo del giovane operaio dalla trave in acciaio che si è staccata dalla gru. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale che rappresenta l'ennesima tragedia per Ariano Irpino.